La donna è emigrata al centro di un convegno a Cerveteri, organizzato da Badia Rami, tanti gli interventi all'interno dei quali si è evidenziata la figura della donna straniera del tessuto sociale della città di Cerveteri. E io credo ancora che l'unione tra donne possa e debba muovere il mondo, la forza dell'unione senza contrasti, la forza della pace. Si è citato prima, all'inizio del convegno, un movimento che si chiama Women Wage Peace. Ho la fortuna di rappresentare il dipartimento donne di un movimento internazionale Uniti per Unire e Women Wage Peace con il loro contributo hanno arricchito questo dipartimento e ad oggi ci sono 50.000 donne che stanno marciando dal 24 settembre e che chiuderanno questa marcia il 10 ottobre, dimostrando che nella guerra non ci sono differenze, siamo tutte donne e quindi le donne devono appellarsi per la pace con forza. Grazie a tutti!